Con l'aggravarsi della situazione epidemica i decreti del Governo si susseguono ormai senza sosta. L'ultimo è stato annunciato dal Presidente Conte nella serata di mercoledì e contiene ulteriori misure restrittive per la scuola. In tutte le scuole secondarie di secondo grado si passa così alla didattica digitale integrata, mentre nelle regioni delle aree rosse la didattica distanza riguarderà anche le classi seconde e terze della secondaria di primo grado. Per il momento rientrano nelle aree rosse Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria, ma la classificazione delle regioni non è statica per cui nei prossimi giorni qualcosa potrebbe cambiare. Puglia e Sicilia per esempio sono nell'area arancione e sono già indicate come regioni con criticità medio-alta, quindi bisognerà capire come si evolverà l'epidemia. La suddivisione delle regioni in tre fasce, gialla, arancione e rossa, sta scatenando polemiche e proteste. Il Presidente della Sicilia per esempio ha già detto di essere in totale disaccordo sulla scelta del Governo e riporta i dati di altre regioni che pur con un quadro peggiore sono state collocate nell'area gialla. Per intanto comunque per consentire ai diversi territori di riorganizzarsi il Governo ha deciso che le misure del decreto entreranno in vigore a partire da venerdì 6. Un'altra polemica di non poco conto riguarda la sospensione delle prove del concorso straordinario perché c'è chi sostiene che a questo punto bisognerà pensare di annullare l'intera procedura dal momento che i concorrenti stanno partecipando in condizioni molto diverse fra di loro. Come se non bastassero i problemi legati alla chiusura delle scuole, qua e là si segnalano anche situazioni sgradevoli, come quella di cui parlano i partigiani della scuola pubblica. Nei giorni scorsi l'assessore all'istruzione della Regione Calabria avrebbe dichiarato che a portare il Covid nelle scuole sono stati proprio i docenti. L'affermazione non è passata inosservata e i partigiani stanno già chiedendo le dimissioni dell'assessore. E ci sono anche situazioni paradossali. Diverse scuole secondarie di secondo grado ci stanno segnalando che proprio in concomitanza con la decisione del Governo di sospendere le elezioni in presenza, stanno arrivando i banchi richiesti a suo tempo. Banchi che per il momento verranno depositati nei locali della scuola ma che verranno utilizzati nella migliore delle ipotesi fra un mese almeno. E intanto c'è anche chi pone un problema non secondario. Valentina Prea di Forza Italia e Gabriele Toccafondi di Italia Viva chiedono alla Ministra di avviare un accurato monitoraggio sulle modalità di attivazione della didattica a distanza nelle scuole e soprattutto nelle secondarie. Si tratta di capire, sostengono i due parlamentari, quale sia la qualità dei percorsi didattici attivati dalle scuole, soprattutto per evitare che la didattica a distanza provochi altra dispersione scolastica. Su questo tema, sulle decisioni del governo e su quelle delle regioni continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnica-dellascuola.it. Ovviamente continuate anche a scriverci, mandarci le vostre impressioni, le vostre riflessioni, noi ne daremo conto come al nostro solito. Grazie a tutti!